C'è una probabilità su 7 miliardi che tuo figlio vinca il premio Nobel. C'è una probabilità su 24 milioni che diventi presidente della Repubblica. C'è una probabilità su 50 mila che tuo figlio nasca con la sindrome di Wolf-Hirschhorn. La chiamano malattia rara, ma non è poi così rara. Sostieni la ricerca insieme a noi. Grazie a tutti.